Nuovo appuntamento con il Terre d'Arezzo Music Festival in Val D'Arno, stavolta lo scenario e Villa Belpoggio a Lorociuffenna. La tematica è quella della storia della musica partenopea con l'ensemble di Festa Rustica. Il concerto ad ingresso gratuito è previsto la sera di sabato 15 luglio. Sabato 15 luglio alle ore 21.15 presso Villa Belpoggio a Lorociuffenna ci sarà un nuovo appuntamento del Terre d'Arezzo Music Festival organizzato dall'Associazione Opera Viva. Il concerto, dal titolo Le origini della canzone napoletana, avrà come protagonista l'ensemble Festa Rustica, specializzato nella musica antica su strumenti originali. In particolare, il concerto di sabato sera avrà un programma incentrato su aria e canzoni napoletane fra 500 e 700, con soprano, violoncello barocco, flauto dolce e clavicembole. Il maestro concertatore, Giorgio Matteoli, è anche flautista del gruppo e si esibirà con diversi tipi di flauto barocco. L'ingresso sarà comprensivo di degustazione di vini e prodotti del territorio. Si consiglia la prenotazione presso la biblioteca di Toranova Bracciolini oppure sul sito web del comune. Il luogo di ritrovo per raggiungere il concerto è la fattoria di Pogitazzi, sulla Sette Ponti, dove sarà possibile lasciare la macchina e da lì una navetta accompagnerà il pubblico al luogo dello spettacolo. L'ingresso sarà comprensivo di Pogitazzi, sulla Sette Ponti, dove sarà possibile lasciare la macchina e da lì una navetta accompagnerà il pubblico al luogo dello spettacolo.